Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale, sono qui in compagnia di mia moglie e stasera ci facciamo la nostra prima partita a Warhammer 40.000 Conquest, quello dell'Ascetto, uscito in ridicola stiamo usando un terreno della P-Work, che vi ricordate il libro, quello delle battaglie che potete usare per giochi da tavolo e anche GDR e abbiamo messo come eserciti, che guido io quassù in difesa della Cattedrale di Roccata, ci siamo inventati una missione che non è presente nel gioco uso gli Adeptus Astartes, in questo caso qui gli Ultramarine, e ho degli Ultramarine normali, dei soldati, delle Space Marine e da quest'altra parte ho i Revers, come si chiamano mi sembrano, sì, insomma sono quelli d'assalto più che altro da corpo a corpo mia moglie di là invece usa i Pox Walker, che sono questi qua, e la Death Guard quindi è uno scontro fra Space Marine degli Ultramarine e Nargol ora, come vedete, non abbiamo elementi scenici, ci abbiamo soltanto messo questo bellissimo scenario questa chiesa in 3D di Roccata, però per il resto non abbiamo tanti scenari al momento per creare coperture e cose del genere, ora mi si è attaccato il coso quindi queste rocce che vedete nel campo qui sono coperture quindi questa è una copertura, quella è una copertura, quelle là sono coperture e soprattutto dentro la chiesa di Roccata non c'ho copertura però le colonne che vedete qui ai quattro angoli, queste qui invece le contiamo, le scale no, le contiamo come coperture quindi questo qui è in copertura lì dietro ora, la missione siamo noi che bisogna reggere, ce la siamo inventata così gli Ultramarine devono reggere le rovine di questa abbazia perché praticamente è stato ritrovato un'antica reliquia di un Primarca senti lì che storia del capitolo degli Ultramarine, del Primarca del capitolo degli Ultramarine e quindi la Death Guard se ne vuole impossessare perché è un oggetto molto potente e gli Ultramarine la dovranno difendere fino alla morte ora, andando a vedere le caratteristiche ragazzi che con questa è proprio Warhammer 40.000 semplificata al massimo livello vedete, queste sono le caratteristiche dei miei quindi delle mie due unità e queste sotto sono invece le caratteristiche del due tipo di unità di mia moglie quindi della Death Guard di Nargol queste rovine che stiamo usando per questo gameplay qua giù, guardate bello dietro con l'angelo tra l'altro con lo scudo fa molto in tema Warhammer perché sono le rovine, sono elementi scenici della Foreground che ringraziamo ancora una volta che fanno elementi scenici proprio per Warhammer quindi questo qui è uno scenario pensato per Warhammer la missione sarà quella di dover reggere l'assedio e mia moglie deve riuscire a liberare la cattedrale e ammazzarci tutti se riesce a far entrare uno qua dentro e non c'è difesa all'interno ha vinto la partita ovviamente il turno si divide che prima ogni fazione muove le sue pedine e le azioni da fare in successione sono movimento, tiro, carica e combattimento per ciascuna truppa e ora poi vi faccio vedere come funziona comunque intanto partiamo il primo Poxwalker ha provato che era lì dietro ha provato a caricarmi l'ultramarine gli ho sparato lo colpivo solo col 6 secco non l'ho colpito e mi è arrivato in corpo a corpo però ha provato a colpirmi col 5 più e non ce l'ha fatta quindi è un niente di fatto quindi quello lo muovi lì si muovono di 4 sì quindi rimane lì per me è un casino questo righello tienilo più alto tienilo sopra la testa è uguale no no mi casino io e poi lo muovo così è sì così 2 ok lo muovi a 2 vuoi provare a ridichiarare un'altra carica? quanto c'è da lui a quell'altro almarina? qui 6 quindi devi tirare due dadi da 6 e fare almeno 6 ci vuoi provare? però ti sparo eh prima ok allora prima ti sparo aspetta lo colpisco solo col 6 eh chiarisco 4 niente quindi l'ho manca questo marine spara su di lui ma lo manca vai 6 6 è un buccio di culo rotto quindi non misurare più tanto ormai si sa mettemelo direttamente in corpo a corpo ora il suo in corpo a corpo per ferirmi l'ultramarine deve tirare ah no hanno due attacchi in mischia eh quindi anche quello di prima te ne faccio fare un altro ora ok hanno due attacchi in mischia e eh per ferire in mischia 5 o più no no hanno due dadi quindi tirane due perché hanno due attacchi aspetta due per quello e poi uno per quest'altro che non è fatto prima ah facciamo prima quello allora quello uno solo uno 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 ok 3 niente mancato ora ne tirane eh ho tutto il 5 che ho fatto eh ora tirane due per quell'altro eh perché hanno due attacchi eh l'ho buttato male comunque un uno e un tre un uno e un tre niente due e un due ho avuto culo un altro basta eh hanno due attacchi hai tirato due dadi un dado per attacco sì sì scusa ok quell'altro che li fa fare oh sono già messo male mi sono già arrivato in corpo a corpo eh vabbè ho fatto muovere prima lei perché ovviamente io essendo in difesa dovrei essere un minimo avvantaggiato però come trovo sì loro si muovono di 5 uno in più ah no scusa quattro 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 quindi quattro puoi fare anche doppia carica sullo stesso eh lo potete ingaggiare anche di più non è che c'è spazio per uno solo questo è sette ormai fai vedere no è sei no è sette è sette è sette a provare questo è sette questo non ne parliamo a provare sette ma proviamo allora io ritiro il mio dado prima gli sparo tira un pochino qui vediamo niente non ne metto nemmeno uno tira e vediamo se ci arrivi no vabbè 10 vai mettimelo in corpo a corpo mi sa che la perderò sta missione è bel maschione sì bel maschione ok è arrivato in corpo a corpo vediamo un pochino il mio ultramarine che li fa per l'imperatore ti distruggerò cioè la luce fa schifo eh proprio completamente per l'imperatore ti distruggerò vai tira due dadi in corpo a corpo 5 sì sommati però 5 quindi niente dai per ora mi è arrivato in corpo a corpo ma stiamo reggendo bene mi sto facendo le carezze per McRage la legione della Death Guard avanza inesorabile e in più questo povero Marine abbiamo usato dei token di un altro gioco eh di Endure the Stars praticamente ha subito una ferita perché in Conquest gli Space Marine hanno due ferite quindi questo schifoso Pox Walk qui è riuscito a fargli una ferita ma noi reggeremo l'assedio per l'imperatore cioè mi sono già tutti in corpo a corpo non posso più nemmeno sparare intanto loro stanno provando ad aggirarmi ridi ridi vedete faccio ridere io state belli ragazzi ora a parte che sgrana sfuoca mi trema la mano e tutto il resto cioè guardate che cazzo di miniature che sono la Death Guard senti un attimo ma questo qui lo posso caricare con questo qui no come no si che lo puoi caricare eh si però 8 pollici 8 pollici ok ah hai mosso può anche sparare perché loro possono sparare possono fare le azioni le rifaccio un attimino nel manuale sono movimento tiro carica e combattimento quindi hai diritto anche a tirare lo vede fai vedere rifai vedere poi nella cittata lo vede mi alzo un attimino lo vede tranquillamente sì no la distanza non conta basta che lo veda e lo vede eh niente tira i dadi per ferire loro i tuoi a distanza devono fare 4 o più un dado quindi un dado solo devono fare 4 o più 5 e io tiro salvezza di 3 o più no no porca miseria salvato ora hai mosso hai sparato vuoi dichiarare la carica o no vuoi caricare o non ci vuoi provare quant'era? 8 la distanza sì vuoi caricare oh devi conquistare la chiesa te eh deciditi vuoi caricare dai ce la potresti fare per la morte lo fai? no niente non vuole caricare fine quindi tocca a me no questo qua ah quello lì no lui non me lo vede dai su dietro la colonna lui non mi vede ma non devi vedere il laterale ma gli vede la fondina non devi vedere il laterale lo devi mettere centrale devi vedere se me lo vedi centrale non lo vedi ma uno lì tutto più gli dice guarda che la sua pila che si dietro la colonna quindi basta sì ma questi è già mosso tante volte li muovi ma la carica di 101 no no la devi dichiarare prima ormai è fallita ora questo prova ad attaccare in corpo a corpo questo li colpisco in mischia altre o più perché sono senza armatura quindi attacchi in mischia due ne faccio anch'io ok l'unico attacchi in mischia loro ne fanno due i marine i marine ne fanno da corpo a corpo tre i miei ne fanno tre tirano tre in corpo a corpo quelli normali due e i tuoi grossi invece uno soltanto perché gli space marine sono forti anche in corpo a corpo quindi attacchi in mischia ne hanno tre e ti colpisco col tre o più quindi ora ti faccio totto sul culetto quindi due colpi sono andati a segno ti hai diritto a un tiro salvezza di cinque o più con due dadi però vai cioè devi fare devi fare cinque o più per salvarti un cinque e un due quindi una ferita alla parata e una no morto e ora col potere del vaffanculo poi ora passiamo al secondo un marine normale che attacca in corpo a corpo questo quindi lui attaccando lui fa per ferire in mischia sempre al tre o più e tira due dadi quindi uno un colpa andato a segno tira te per difendere devi fare come prima salvezza cinque o più no uno solo se è entrata una ferita uno solo devi fare cinque o più niente anche questo è morto ma che palle non voglio una cespica sì ma te stai vincendo perché tengo la fotocamera con la mano quindi non riesco a sciampare i due dadi capito? non mi ho aperto no poi ora questo qui è in corpo a corpo con due quello che l'ha ferito è questo e lui dice ok spacco la testa a quello quindi tira due dadi tutti e due entrati prova a difenderti uno l'ha difeso e uno no quindi questo è morto questo è una congiuria congiuria ora quindi loro tre si sono mossi ora tocca a me misurare quindi lui si sposta di uno e va qui e apre il fuoco su questo e ora ti faccio vedere che è un casino buttate lì giù apre il fuoco su questo che ovviamente lo vedo questo di qua ci hanno un punto ferita sola è bello grande e per colpire loro per ferire da tiro fanno 5 più 3 o più però loro sono corazzati quindi devo fare 5 più ok 5 più 1 mancato niente loro no 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 sparo no soltanto quando carichi uno ti può sparare in difesa poi no 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 lo sparo no soltanto quando c'è si chiama la controcarica la difesa lui che è il sergente spara su questo qui che ha fallito la carica tanto lo vede e ci arriva poverino dai si chiama furbo altre o più colpito e te ti difendi al solito al 5 più no che è culo rotto furbi e manca soltanto lui che lo sposto di uno qui accanto così si fa anzi va qui vai si fa vedere e apre il fuoco su questo qua giù che tanto lo vede perché non è proprio completamente dietro al muretto quindi lo vede tira un dado al 5 più mi sembra per ferire è un marine normale si quindi al 5 più e va a fa un culo niente anche il mio turno è finito però insomma glielo ho ammazzato i tre non male anche dei piccoletti perché più che altro se loro mi ingaggiano in corpo a corpo io poi non posso tirar distanza e quando mi arrivano corpo a corpo loro fanno tanto male però per ora per ora dai mi hanno fatto soltanto una ferita a questo devi riprendere capito ragazzi Astolfus che è un nome romano antico perché le Space Marine ma neanche i romani a quel tempo lo usavano lo facevano a cagare Astolfus va bene il senso il prode ultramarina Astolfus è stato ucciso in corpo a corpo la tua anima non sarà dimenticata il tuo gesto neanche il tuo seme sarà portato via da questo pianeta schifoso per farti reincarnare in un nuovo ultramarino ciao missimale però esagerazione fanno crepare in maniera tranquilla e vatti alla metà con la GV cosa c'entro io ah ero lì a morto mamma mia ci sa un'illuminazione ragazzi noi la ferita portagliela via anzi dammela la metto nella cassettina porti via anche la ferita porto via anche la ferita che stiamo usando quelle di un altro gioco che non sono le sue e niente io direi che uno un fronte ha ceduto e ora devo reggere l'assalto di tutti questi qua dai ce la posso fare ce la posso fare ancora che poi abbiamo usato un campo di battaglia ragazzi molto improvvisato tanto per con questo va bene però cioè guardate la distanza da questi grossi e brutti quant'è? è pochissima cioè è un attimo che mi arrivi non corpo a corpo però dai per ora stiamo reggendo allora la situazione si sta un pochino aggravando questo qua giù ha subito una ferita tra l'altro non dalla carica di questo qui ma dall'arma dal fucile Requiem di quell'altro della Death Guard e questo qui si è mosso fino a qui vuoi caricare ora? sì quindi no aspetta ma non lo posso sparare sì puoi sparare prima muovi spari carichi e combattimento vai un dado al 4 più 3 niente prova a caricare però prima tiro io per vedere se te lo becco al 6 no vai tira te abbondantemente non misurando in meno arrivi in corpo a corpo e tira il tuo dado al 4 più in corpo a corpo hanno un attacco solo loro 6 e attenta non li spostare perché si perde 6 e io difendo sempre altri o più porca miseria che culo basta non finirà mai questa battaglia ma perché gli ultramarine reggeranno fino alla fine del tempo tanto uno è Calcius no Calcius non c'è il sergente è molto uguale l'ho ammazzato uguale perché quel colpo di prima è vado il valoroso sergente Calcius ma che non è presente in questa missione è offeso è offeso è offline non è connesso lui si muove lì poi cosa vuol fare cosa fai dai con tre figli dell'imperatore lo sparuto vai vai fai vedere con tre figli dell'imperatore dai ha sparuto ha fatto uno niente vuoi caricare hai sparuto vuoi caricare aspetta prima sparo io eh 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 due niente è il cacchio vai carica dai vuoi fare un cacchio undici boia alla faccia della carica vai attaccamelo tira un dado col quadro quadro andiamo un po' uno niente carica fallita va bene così dai ora li ammazzo tutti ragazzi vado a fare un tiro con tre dadi per lui laggiù che ferisce al 5 o più ragazzi devo passare al caos 6 6 6 cioè il numero della bestia se mi ammazzi quello lì ti faccio dormire un divano per tre mesi allora dai salvi al 3 o più quindi tirali tutti salvano al 3 o più se fallisci al 5 o più intanto tira questi quindi due sono riusciti uno ha fallito quello che ha fallito lo ritiri e devi fare 5 o più morto non è possibile morto vai a fare sì ma c'è solo un punto ferita mi dispiace ma così ciccione è solo un punto ferita ferite uno sì però c'ha due tiri salvezza e morto ciao ciao death guard grandissimo bubu no ragazzi la vendetta di bubu bubu ha ucciso pinturichius che era dell'adeptus astartes ultramarine di mccrage senti là che termine di ultramar distrutto ucciso pinturichius è morto rimane il sergente qua giù nella chiesa con una ferita che vedete che è sfiderditino sfiderditino con la feritina lì il bello come vi ho detto all'inizio del video se lei riesce a portare anche se è deciso a noi riesce a portare anche una sola miniatura dentro la cattedrale di roccata e non ci sono puffi blu ultramarina a difenderla lei ha vinto la partita quindi a me mi è rimasto il sergente e loro tre ce la posso ancora fare dai ce la posso ancora fare tocca a me ora no tocca a me devo muovere così no 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 allora vai dai muovere vedi da dietro la ripesa spetta così 5 più guardate bello ragazzi quello scenario lì quella che è stupenda no loro in corpo a corpo al 4 più feriscono quale prima qui prima questo qui vai quanto hai fatto 5 5 io difendo altri o più meno male allora il primo non fa niente secondo niente il terzo eh porca miseria niente e ora vado scusa ma non potevo rilanciare il dado no 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 un po' rilanciare per ferire il mischia al 4 più ora questi qui sono due marine eh no scusate questo qui è un marine normale uno space marine e questi sono due ravers insomma come si chiamano quelli praticamente da corpo a corpo il problema di loro è che tirano sì lo ferisco al 5 più però hanno due attacchi in mischia gli space marine e loro tre quindi tiro tre dadi e eh facciamo tocca a me tanto il mio turno si è detto sì questo qui su questo tiro tre dadi e ferisco al 5 più quindi ne passa uno te ferisci ti salvi il primo al 3 o più se fallisci al 5 o più fallito sì vai a quel paese ora lui attacca lui però ne tira due soltanto uno solo perché io ti ferisco al 5 o più salvato fammi divertire anche a me ho l'ansia è invece io che ti ho mancato anche con questo niente ora tocca al sergente e il sergente visto che quelli piccini sono molto più rischiosi di quello grosso perché quello grosso tira un solo dado fa un solo attacco quelli piccini due prova ad attaccare questo piccino qui in corpo a corpo vediamo un pochino col 3 o più uno sì e te ti difendi col 5 o più e basta perché ovviamente è uno piccolino no ok quindi uno di quelli piccolini è stato rimosso e il turno è finito ora mi sa che so cazzi ragazzi appianto finora aspetta allora questo qui mi si era liberato no quello da corpo a corpo io chiedo scusa mi sembra si chiamano rivers vorrei dire una cavolata comunque scusate ancora una volta l'illuminazione gli ammazzo il questo qui la death guard che era lì glielo uccido lo vado a togliere dai coglioni e dico vai sai che c'è consolido a questo punto qui nel mio turno consolido e vado a dare manforte a quest'altro fratello degli ultramarine il problema è che il sergente è da solo in corpo a corpo contro tre e io cretino me ne sono dimenticato perché se l'avessi mandato in corpo a corpo c'era uno più dentro la cattedrale però siccome mia moglie con quel piccoletto schifoso ha tirato e ha fatto un 2 e un 5 no un 2 e un 5 e io ho tirato per il 3 o più di difesa dell'armatura mk10 degli ultramarine e ho fatto uno quindi il sergente che già aveva una ferita è morto non c'è nessun altro all'interno della chiesa delle rovine quindi il caos ha vinto la partita cioè me la sono giocata oltre che a merda potevo tranquillamente vincerla perché loro tirano un dado in corpo a corpo quello piccolo ne tira due i miei ne tirano due e loro tre quindi cioè alla fin fine bastava che lo mandavo qui e li ammazzavo tutti comunque visto che stavi piangendo vieni diamoci la mano sportivamente tu mi ha sputato il caos vince ragazzi gli ultramarine hanno fallito torneranno anzi non torneranno sul pianeta mck rage andranno a parlare con il loro con il loro capo del capitolo cos'è cosa c'è lì dentro in quella chiesa lì insomma anche se gente caglius calcius ho disonorato il capitolo cazzus ho disonorato il capitolo mi vado a fare seppucu scusa seppucu che cazzo fa